Ringraziano di avere un tetto sulla testa, quel tetto che in molti vorrebbero, soprattutto in questo momento di crisi e forte povertà. Ringraziano, ma denunciano questa situazione che va avanti da anni. I componenti della famiglia De Masi hanno chiesto che riprendessimo con le telecamere le condizioni della casa in cui abitano da 15 anni. È una casa di edilizia residenziale pubblica, in un palazzotto che si trova a Lizzanello, al civico 10 di via Benedetto Croce. Sembra che le pareti e il soffitto in più punti, soprattutto in bagno, stiano per venire giù. Questa finestra è rotta da mesi, così come anche la porta, ma nessuno ci ascolta, dicono. All'esterno la situazione non è da meno. Guardate questa grata di velta. Un bambino rischia di precipitare nella fogna. Appena siamo arrivati la verità stava un po' meglio, però dopo parecchi anni si sono iniziate a rotte finestre e cose varie. Io avevo 5 anni da quando siamo venuti qui ad abitare. Stiamo chiedendo un piccolo aiuto da parte vostra, se magari riuscite in qualche modo a darci una mano. Voi avete segnalato tutte queste cose che non vanno e soprattutto il soffitto, il solaio del bagno, che mi sembra la cosa più urgente. L'avete segnalata a qualcuno? Sì, parecchie volte. È andato anche mio fratello in comune per segnalarlo. Sono venuti una volta sola per fare il sopralluogo e da quel giorno non si è fatto più vedere nessuno. Voi avete paura? Sì. 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 Sì.